di dino buzzati battaglia notturna alla biennale di venezia stabilitosi per l'eternità nei campi elisi il vecchio pittore ardente prestinari manifestò un giorno agli amici l'intenzione di scendere sulla terra per visitare la biennale di venezia dove a due anni dalla morte gli era stata dedicata una sala gli amici tentarono di dissuaderlo lascia perdere arduccio era il vezzeggiativo che aveva sempre portato in vita tutte le volte che uno di noi scende laggiù sono amarezze non pensarci rimani qui con noi i tuoi quadri li conosci e sta pur certo che avranno scelto il peggio come al solito e poi se parti chi farà stasera il quarto allo scopone vado e torno ribadì il pittore e si precipitò al piano di sotto dove vivono gli uomini vivi e si fanno esposizioni di arti belle arrivare sul posto e scovare fra le centinaia di sale quella dedicata a lui fu questione di secondi ciò che vide lo lasciò soddisfatto la sala era spaziosa e situata lungo il percorso obbligato su una parete il suo nome campeggiava con le due date di nascita e di morte e i quadri per la verità erano stati scelti con più discernimento di quanto avesse sperato certo ora che li esaminava con la mentalità di defunto per così dire subspecie eternitatis gli saltavano agli occhi una quantità di difetti e di errori che da vivo non aveva mai notato avrebbe avuto l'impulso di correre a prendere i colori e di rimediare sul posto in fretta e furia ma come fare i suoi arnesi da pittore ammesso che esistessero ancora chissà dove erano andati a finire e poi non sarebbe successo uno scandalo era un giorno feriale tardo pomeriggio visitatori pochi entrò un giovanotto biondo straniero senza dubbio probabilmente americano diede un'occhiata circolare con un'indifferenza più oltraggiosa di qualsiasi insulto passò oltre il bifolco pensò prestinari va a cavalcare vacche nelle tue praterie invece di visitare mostre d'arte ecco una giovane coppia presumibili sposi in viaggio di nozze mentre lei si aggira con la caratteristica espressione atona e spenta dei turisti lui si ferma interessato dinnanzi ad una piccola opera giovanile del maestro una viuzza di montmartre con il fatidico sfondo del sacre coeur deve essere di modesta levatura il giovanotto prestinari si dice eppure la sensibilità non gli manca anch'essi di modeste dimensioni questo è proprio uno dei pezzi più notevoli si vede che la straordinaria delicatezza dei toni lo ha colpito altro che delicatezza dei toni vieni qui tesoro dice il giovane alla sposa guarda un po manco a farlo apposta che cosa ma non ti ricordi tre giorni fa a montmartre quel ristorante dove abbiamo mangiato le lumache guardalo qui proprio su quest'angolo e fa segno al quadro è vero è vero esclama lei rianimata però ti confesso che a me sono rimaste sullo stomaco ridendo stupidamente se ne vanno è la volta di due signore cinquantenni accompagnate da un bambino prestinari dice una leggendo ad alta voce il nome che sia parente dei prestinari che abitano sotto di noi sta fermo giandomenico non toccare con le mani esasperato dalla stanchezza e dalla noia il bambino infatti sta cercando di staccare con le unghie un groppo di colore che sporge da un tempo di mietitura in quel mentre prestinari ha un tuffo al cuore vedendo entrare l'avvocato matteo dolabella suo vecchio e caro amico assiduo frequentatore della trattoria artistica di cui egli era stato uno dei personaggi più brillanti lo accompagna un signore sconosciuto o prestinari esclama compiaciuto dolabella gli hanno dedicato una sala meno male povero arduccio sarebbe felice se potesse essere qui una intera sala solo per lui finalmente lui che da vivo non era mai riuscito ad ottenerla e come ci soffriva lo conoscevi tu personalmente no risponde il signore sconosciuto devo averlo visto una volta era un tipo simpatico vero simpatico più che simpatico un caser affascinante una delle persone più intelligenti e spiritose che abbia mai conosciute le sue frecciate i suoi paradossi delle serate indimenticabili si passavano con lui il meglio del suo ingegno si può dire lo spendesse con gli amici chiacchierando sì certo come vedi anche i suoi quadri hanno del buono o meglio avevano è un vecchiume ormai questa pittura dio mio quei verdi viola fanno legare i denti verdi e viola erano la sua mania non gli pareva di scaricarne mai abbastanza sulla tela povero arduccio coi risultati che tu vedi sospirò scuotendo il capo e cercò nel catalogo fattosi da presso prestinari allungò l'invisibile collo per vedere cosa c'era scritto vide una mezza pagina di presentazione firmata claudio lonio altro suo amico intimo con altrettante strette al cuore lesse alcune frasi di sfuggita rilevata personalità ardenti anni giovanili della parigi della tramontante belle poche che gli valse i più aperti riconoscimenti della non dimenticabile apporto a quel moto di nuove idee e di audaci tentativi che un posto e non degli ultimi nella storia del ma dolabella chiuso il libro già si avviava nella sala successiva che caro uomo fu il suo ultimo commento lungamente i custodi andati sempre più buio tutto deserto e stranamente inutile prestinari restò a contemplare quella sua estrema gloria dopo la quale mai e poi mai lo capiva benissimo ci sarebbe più stata una sua mostra personale fallito avevano ragione i suoi amici lassù nei campi elisi era stato uno sbaglio ritornare non si era sentito mai tanto infelice con che superbia sicurezza di se stesso una volta resisteva impavido all'incomprensione della gente con che risate rispondeva alle più maligne critiche ma allora aveva dinanzi a sé un futuro una indefinita serie di anni disponibili una prospettiva di capolavori uno più bello dell'altro che avrebbero sbalordito il mondo mentre adesso la storia era finita negli sarebbe stato mai concesso più di aggiungere sia pure un solo colpo di pennello e ogni giudizio sfavorevole gli doleva con la cerba pena della condanna che non ha rimedio intanto sconforto si riscosse d'impeto il suo temperamento battagliero i verdi e i viola e io sarei qui a mangiarmi l'animo per le asinerie di dolabella quell'idiota quel cafone che di pittura non ha mai capito un'acca lo so ben io chi gli ha stravolto il cranio gli antifigurativi gli astrattisti gli apostoli del verbo nuovo anche lui si è accodato alla masnada e si lascia menare per il naso la collera che già da vivo lo prendeva alla vista di certe pitture d'avanguardia si rinnovò riempiendogli l'animo di fiele per colpa di questi scalzacani egli era convinto l'arte vera quella ancorata alle gloriose tradizioni oggi veniva disprezzata la malafede e lo snobismo come succede spesso avevano vinto la partita sconfiggendo gli onesti pagliacci istrioni venditori di fumo opportunisti dentro di sé imprecava qual è il vostro lurido segreto per darla a bere a tanta gente e ottenere nelle grandi mostre la parte del leone garantito che anche quest'anno qui a venezia siete riusciti ad avere il meglio e il buono voglio cavarmi il gusto di vedere così brontolando lasciò la sua sala scivolando verso gli ultimi reparti era ormai notte ma il plenilunio batteva sui vasti lucernari diffondendo una fosforescenza quasi magica via via che prestinari procedeva nei quadri appesi alle pareti avveniva un progressivo mutamento le classiche immagini i paesaggi le nature morte i ritratti i nudi sempre più si deformavano gonfiandosi allungandosi torcendosi dimenticando l'antico decoro finché a poco a poco si rompevano perdendo completamente ogni traccia della primiera forma ecco le ultime generazioni sulle tele per lo più immense non si scorgevano che confusi grovigli di macchie spruzzi ghirigori veli vortici bubboni buchi parallelogrammi e ammassi viscerali qui trionfavano le scuole nuove i giovani e rapacissimi pirati della dabbenaggine umana maestro bisbigliò qualcuno nell'arcana penombra prestinari si fermò di scatto come al solito pronto alla discussione o alla battaglia chi c'è chi c'è all'unisono da tre quattro parti gli risposero crepitando triviali versi di dileggio seguirono rotte risate e un eco di fischiolini che si persero in fondo all'allineamento delle sale ecco quello che siete tuonò prestinari a gambe larghe gonfiando il petto come per resistere ad un assalto dei teppisti da trivio impotenti rifiuti dell'accademia imbrattatele da casa di salute fatevi avanti se ne avete il regato ci fu una lieve sghignazzata e accettando la sfida giù dalle tele scesero affollandosi intorno a prestinari le più enigmatiche parvenze coni globi matasse tubi vesciche schegge cosce ventri glutei dotati di particolare autonomia pidocchi e vermi giganteschi e fluttuavano in danza beffarda sotto il naso del maestro indietro pallonari adesso ve le suono io con l'energia strapotente dei vent'anni chissà come ritrovata prestinari si avventò contro la folla menando botte da orbi la tieni questa e questa carogna vescicone maledetto i pugni affondavano nell'eterogenea massa e con giubilo il maestro constatò che sgominarla sarebbe stato facile le astratte parvenze sotto i colpi si sbriciolavano o crepavano dissolvendosi in una specie di pantano fu una strage in mezzo ai detriti finalmente prestinari si fermò ansimando un superstite frammento come una clava gli sbatté sul viso lo germì al volo con le potenti mani lo scaraventò in un angolo ridotto ad un cencio inerte vittoria ma proprio dinanzi a lui quattro informi spettri stavano ancora ritti con una sorta di severa dignità una debole luce ne emanava e al maestro parvi di riconoscervi qualcosa di caro e familiare riecheggiante da anni e remotissimi finché comprese in quei grotteschi simulacri così dissimili da ciò che egli aveva dipinto nel corso della vita palpitava tuttavia il divino sogno d'arte lo stesso ineffabile miraggio che egli aveva inseguito contestar da speranza fino all'ultima sua ora c'era dunque qualcosa di comune fra lui e quelle infrequentabili creature in mezzo a furbacchioni in malafede esisteva dunque qualche artista onesto e puro o addirittura non potevano essere costoro i geni i titani i beniamini della sorte e un giorno per mano loro ciò che oggi non era che follia si sarebbe trasformato in bellezza universale da quel galantuomo che era sempre stato prestinari li osservò interdetto con una improvvisa commozione ehi voi disse in tono paterno su da bravi tornate dentro ai quadri che non vi veda più avete anche ottime intenzioni non dico di no ma siete su una cattiva strada figli miei una pessima strada siate umani cercate di prendere una forma comprensibile impossibile ciascuno ha il suo destino sussurrò con rispetto il più grosso dei quattro fantasmi fatto di una intricata filigrana ma cosa potete pretendere combinati come siete oggi chi vi può capire belle teorie fumo difficili parole che sballordiscono gli ingenui questo sì ma in quanto ai risultati ammetterete che finora finora forse rispose la filigrana ma domani e c'era in quel domani una tale fede una potenza così grande e misteriosa che rintronò nel cuore del maestro beh che dio vi benedica mormorò domani domani chissà in un modo o in un altro ci arriverete per davvero però che bella parola domani pensò prestinari che non poteva pronunciarla più e per non lasciar vedere che piangeva corse fuori anima in pena galoppando via sulla laguna